amici di alex garson benvenuti alla sedicesima giornata di campionato di serie b in questo speciale dedicato appunto alla serie b per portare la serie b sincronizzata con la serie a come avevamo detto e annunciato nella precedente appunto nella precedente programmazione oggi sono due le partite mentre scorre il programma che trasmetteremo la prima il derby siciliano catania palermo non può non esserci il derby oggi in programmazione la seconda invece daremo spazio a rimini e vedremo rimini che è in sedicesima posizione in classifica quindi appena sopra la zona retrocessione scontrarsi con il pescara appena due lunghezze più avanti quindi capite bene che daremo spazio soprattutto anche alla zona retrocessione perché le cose si stanno facendo interessanti direi di adesso non forzare l'introduzione ricordandovi appunto di iscrivervi al mio canale attivare la campanella per tutti gli aggiornamenti un bel like se vi è piaciuto il video andiamo al stadio massimino meglio conosciuto all'epoca come stadio cibali per catania palermo dopodiché andremo a rimini per rimini pescara avremo voluto trasmettere anche lazio verona perché lo riteniamo veramente interessante purtroppo non ci sarà questo è quanto naturalmente spero che vi divertirete e naturalmente ci rivediamo in studio per leggere tutti i risultati e vedere la nuova classifica ed eccoci allo stadio cibali per questo catania palermo che veramente non potevamo non esimerci dal trasmetterlo vista l'ampia rivalità che c'è in sicilia tra le due squadre e tra le due tifoserie quindi ne saranno ben contenti tifosi sia del catania che del palermo ma soprattutto saranno curiosi di vedere chi oggi tra le due squadre prevarrà nella realtà prevalse il catania per 3 a 1 vedremo se oggi si replicherà lo stesso risultato andiamo a vedere quelle che sono le formazioni di catania palermo dopo questa inquadratura allo stadio naturalmente squadre veramente cariche dopodiché andremo a rimini per un rimini pescara che dal sapore di lotta salvezza mentre palermo soprattutto lotta per restare nelle posizioni di testa del campionato le squadre stanno salutando la rivalità è molto alta ho detto ed ecco la formazione del catania con sorrentino miele castagnini vella mosti brilli crialesi barlassina cantarutti gamberini e morra questi gli undici in campo per i rosso blu rispondono i rosanero oggi in divisa trasferta con oddi volpecina pasciullo vai lati di cicco caneo gasperini de stefanis de rosa lopez e montesano vedremo se il palermo soprattutto confermerà le ottime impressioni che abbiamo avuto della squadra rosa nero perché veramente gioca un bel calcio e quindi ci sarà veramente da divertirsi le squadre sono al centro del campo pronte per partire parte il catania castagnini molti saranno i duelli lì in mezzo bella e soprattutto tra le due difese morra a destra subito inseguito da pasciullo che dovrà stare attentissimo all'esterno d'attacco numero undici dei del catania proprio perché veramente gode di un ottimo spunto sul breve intanto brutto l'appoggio verso volpecina cantarutti bella la coppia d'attacco cantarutti crialesi che si trova alla perfezione attenzione bella dovrà fare veramente i conti con lopez eccolo qui soprattutto i suoi sentimenti vedremo se lo seguirà in fase di marcatura difensiva barlassina intanto o barlassina tra i commenti scrivetemi se la i va sulla o sul se l'accento va sulla o sulla i vai lati per caneo grande è la rivalità tra le due tifoserie soprattutto perché si dividono quella che è la regione sicilia le due principali forze dal punto di vista tifosi poi c'è il messina sicuramente come terza squadra siciliana che ha vissuto tempi di serie a anche il messina c'è anche il trapani che è arrivato spesso in serie b quindi insomma la sicilia fornisce sempre ottime formazioni ai campionati cosiddetti minori che tanto minori non solo perché si gioca un bel calcio e ci sono ottimi giocatori anche lì in serie b e in serie c torniamo invece alla partita che è molto interlocutoria col catania comunque a comandare il gioco ma per il momento il palermo tutto rintanato nella propria metà campo non concede nessun spazio alle imbeccate di morra attenzione crialesi in area di rigore ecco morra servito fuori della barlassina o barlassina per morra grossi in mezzo per cantarutti che prova il colpo di testa sorprende un po il portiere oddi che era andato in contro tempo adesso lo vedremo guardate il colpo di testa il portiere del palermo con in contro tempo che praticamente la palla si appoggia fuori ma se fosse entrata l'avrebbe veramente sorpreso di cicco in direzione di volpecina bailati de rosa intanto fermato castagnini gamberini gamberini lancio lungo in direzione crialesi alle spalle di tutti esce addirittura il portiere del palermo di piede ad anticipare crialesi che era lanciato a rete per il momento però nessun pericolo per la difesa del palermo che inizia un po a rischiare il catania sta prendendo spazio e soprattutto sta prendendo fiducia calcio di punizione intanto a favore dei padroni di casa bailati non è d'accordo con l'arbitro gamberini tocco corto in direzione di vella miele per morra in area di rigore esce però non c'è spazio ancora morra attenzione messo giù miele tutto regolare secondo l'arbitro va morra si accentra contatto con pasciullo l'arbitro non fischia rumoreggia il pubblico per l'arbitro tutto a posto per il pubblico un po meno miele il catania ora attacca con fiducia gamberini castagnini gamberini in direzione di vella per castagnini e lì volpecina anzi gasperini deve fare da buona guardia aiutare volpecina sull'esterno vella per barlassina va ancora il centrocampista del catania però contrasto il palermo però non esce dalla propria metà campo il catania continua a spingere senza successo attacco sterile per il momento pochi pericoli per la difesa per la porta del palermo e questo la dice lunga anche sulla compattezza dei rosa nero attenzione De Rosa si lancia in contropiede tutto solo fa salire la squadra ottima apertura su montesano attenzione montesano lì a sinistra deve ripiegare sui 16 metri il catania ora è pasciullo cross in mezzo c'è De Rosa in area di rigore contrasto attenzione perché il palermo quando arriva è comunque sempre pericolosissimo vai i lati per Lopez schermato da Gamberini Cantarutti per Vella le squadre si aprono attenzione Cantarutti per Crialesi fa buona guardia Caneo subito a verticalizzare Lopez De Stefanis ancora Lopez De Rosa servito in area di rigore De Rosa ottimo intervento veramente di Brilli che toglie le castagne dal fuoco ed era un'occasione pericolosissima per il Palermo ma soprattutto per la difesa del Catania finisce 0-0 un primo 0-0 che dà degli spunti soprattutto di discussione con un Catania abbastanza sterile lì davanti non ci sono stati veri e propri tiri in porta ma forse le situazioni più pericolose le ha create il Palermo nel finale di primo tempo vedremo in questa ripresa se la squadra palermitana ha preso fiducia De Rosa intanto prova il colpo di tacco sicuramente il Catania si è spaventato in quel finale di primo tempo e la riprova lo dice anche l'inizio del secondo tempo con il Palermo stabilmente nella metà campo il colpo del Catania prova il colpo di tacco De Rosa non si intende né con Montesano né con Lopez che capiscono troppo tardi le intenzioni del compagno Castagnini in direzione di Barlassina Vella Caneo in sforbiciata a liberare vai i lati il Palermo ha preso fiducia Lopez Gasperini Gasperini per Lopez De Rosa attenzione al tiro di De Rosa la risposta del portiere del Catania ma ottimo il tiro di De Rosa il Palermo sta prendendo sempre più campo sempre più fiducia Gasperini fuori per De Stefanis prova il tiro ancora una volta respinta del portiere ma non è finita Volpecina Lopez attenzione perché il Palermo adesso è pericolosissimo De Stefanis in area di rigore De Rosa spalla alla porta prova il tiro ribattuto arriva Lopez allarga per Volpecina prova l'ennesimo cross libera ancora una volta il Catania ma non è finita Gasperini Palermo stabile nella metà campo dei padroni di casa prova il lungo lancio Castagnini si rifugia in calcio d'angolo alla battuta Volpecina calcio d'angolo battuto palla fuori ancora il Palermo con Lopez Pasciullo gioca bene in questa ripresa il Palermo va ai lati per Gasperini messo giù da Gamberini calcio di punizione a favore dei rosa-nero oggi appunto in divisa bianca con strisce orizzontali sulle spalle rosa appunto e nere il fallo c'è tutto alla battuta Lopez tocco corto attenzione libera Crialesi e alla fine palla per Cantaruti che cercherà di far salire la squadra con la sua stazza attenzione il contropiede arriva Morra Palermo messo malissimo ancora per Cantaruti che prova il tiro la risposta di Oddi calcio d'angolo grandissimo contropiede del Catania palla in campo aperto per Morra che non se la sente di tirare ma rinvengono i difensori del Palermo ottimo l'intervento del portiere a mettere in calcio d'angolo e adesso occasione per il rosso-blu il cross in mezzo il colpo di testa di Gamberini anzi di Castagnini scusate ottimo colpo di testa il portiere si allunga mette di nuovo in calcio d'angolo ancora nuovo cross in mezzo libera però la difesa del Palermo questa volta Montesano a raccogliere la palla e a provare a lanciare il contropiede subito su De Rosa anticipato da Gamberini Volpecina fase un po' confusa di gioco ma la meglio il Catania Gamberini in area di rigore e guardate l'intervento di Cicco su Oddi di testa ad allungare e sbroglia un po' la matassa perché veramente si stava rivelando pericolosissima quell'azione del Catania adesso siamo nell'altro fronte De Rosa per Lopez largo su Montesano arriva anche Pasciullo servito provano il cross respinto ma è ancora Pasciullo a tenerla in campo fase concitate da una parte e dall'altra squadre lunghe soprattutto Crialesi largo su Gamberini Palermo molto scoperto c'è Cantarutti però servito malissimo e controllato da Di Cicco Volpecina vai i lati per Lopez fermato da Vella attenzione in verticale Brilli in direzione di Sorrentino che ha fatto due ottimi interventi Sorrentino veramente Caneo in direzione di Di Cicco vai i lati fase adesso di stanca del gioco per il gran finale sicuramente si arriva ad un punto della partita dove basta un episodio per poterla vincere De Rosa Lopez eccolo qui l'episodio De Rosa Palermo in vantaggio De Rosa scatta sul filo del fuorigioco difesa del Catania che sale malissimo e lo vedremo nel replay esulta il Palermo zittito e un po' di gelo cala al Cibali al Cibali Bambi esce testa per Vella che ha dato tutto lì davanti alla difesa ed entra anche Conte per Lopez quindi subito via un centrocampista offensivo per un centrocampista molto più difensivo infatti vedete Conte si basta a mettere lì in mezzo Morra il Catania adesso per il tutto per tutto per il pareggio testa per Barlassina per Barlassina scusate Morra il cross in mezzo per Cantaruti respinto da Di Cicco Gasperini attenzione adesso al contropiede del Palermo ma non forzano va ai lati e giustamente alleggerisce all'indietro per lasciar scorrere il tempo il Palermo brutto appoggio però Morra fuori gioco servito troppo tardi si era liberato bene sale bene la difesa del Palermo il fuori gioco è apparso subito netto il cross in mezzo anzi il lancio lungo scusate in direzione di De Rosa sicuramente l'eroe di partita pesta in direzione di Gamberini ultimi scampoli di partita Catania deve far presto Castagnini Crialesi per Cantaruti viene contrastato bene da Caneo e finisce così a Catania il Palermo e spugna il Cibali vincendo per 1-0 e adesso andiamo direttamente a Rimini per questo per Rimini Pescara ed eccoci a Rimini per questo Rimini Pescara partita in zona salvezza Rimini si schiera con Petrovic Baldoni Buccilli Sartori Sartori Merli Parlanti Traini Negrisoli Saltutti e poi leggeremo anche gli altri giocatori invece il Pescara risponde con Frison Salvatori Gentilini D'Alessandro Marchi Pellegrini Casaroli Mazzarri Casaroli Silva Nobili e Di Michele queste sono gli undici in campo per la formazione ospite Rimini Pescara scontro salvezza di fatto perché tutte e due le squadre sono veramente lì ad un passo dalla zona retrocessione e oggi naturalmente daremo spazio anche a loro Saltutti subito fermato calcio di punizione C'è il fallo non è d'accordo il difensore del Pescara calcio di punizione alla battuta Negrisolo in direzione di Traini fermato di Michele Centilini per Di Michele sull'asse di sinistra Sartori fa buona guardia Baldoni in direzione di Negrisolo Bilardi ecco il giocatore che abbiamo mancato col numero 10 il lancio per Saltutti Bilardi Traini Traini recupera palla tutto regolare l'arbitro non ha fischiato ero convinto avesse fischiato ma ancora Traini sull'asse di destra con Baldoni niente da fare libera il Pescara Casaroli da Alessandro per Casaroli sulla destra con il numero 7 nel Pescara c'è un certo Mazzarri che tutti conosciamo Silva per Mazzarri Di Michele lì a sinistra Pescara ora pericoloso in area di gole Rimini il cross in mezzo libera la difesa Traini per Donatelli ma troppo lunga la palla ed è ancora il Pescara ad attaccare con Di Michele per Gentilini ancora Di Michele va al numero 11 Baldoni però si lancia a bloccare il cross Di Michele recupera però lo stacco Silva niente da fare Donatelli Saltutti si fa vedere sull'asse di sinistra non servito Parlanti lancio lungo per Traini Gentilini va Gentilini palla ribattuta un fallo laterale per il momento anzi no palla che resta in campo partita interlocutoria con pochi pericoli da una parte e dall'altra Saltutti cercato dai compagni ma viene anticipato da Alessandro in direzione di Silva Nobili Silva per Mazzarri se l'ha fatto vedere Casaroli a destra vicinare ai rigori Nobili libera la difesa del Rimini Gentilini per Di Michele messo giù Di Michele tutto regolare secondo l'arbitro Nobili messo giù anche lui Danne Grigio lo calcio di punizione va Casaroli sulla palla la batte veloce Casaroli palo pieno bella combinazione con Nobili che sorprende tutti guardate come battono veloce il calcio di punizione intanto Rimini si sta organizzando il Pescara aveva già le idee chiare il palo interno dice di no al numero 8 che si dispera perché è stata veramente una grande azione va ora il portiere Petrovic per Merli Sartori va ancora Merli in direzione di Bilardi regista della squadra romagnola D'Alessandro Casaroli Mazzarri in direzione di D'Alessandro a sinistra per Di Michele prova il cross lungo in direzione di Casaroli Donatelli cercato dai compagni attenzione si distende a Rimini Saltutti per Donatelli Traini in chiama palla non servito Bilardi Sartori Bilardi Sartori Bilardi Saltutti Donatelli per Saltutti difende palla il numero 9 Bilardi azione elaborata del Rimini cross in mezzo Traini era pronto per la botta al volo niente da fare Sartori che alimenta l'azione d'attacco adesso Rimini vuole chiudere in avanti questo primo tempo dopo aver rischiato e non poco con il palo a dire di no a Casaroli per gli ospiti Donatelli per Bilardi Saltutti in area di rigore attenzione non riescono a liberarsi delle barcature ancora Saltutti il tiro Rimini in vantaggio la chiude Saltutti questa lunga azione elaborata per i padroni di casa Rimini in vantaggio esulta anche Petrovic con i tifosi guardate la lunga azione elaborata lungo possesso palla alla fine Saltutti si libera un po' con un movimento prima di inserirsi e poi ad eludere guardate il movimento di Saltutti che prima punta l'inserimento poi si ferma capisce tutto Donatelli dell'intenzione del compagno il tempo di liberarsi la marcatura e depositare la palla in rete vantaggio dunque del Rimini per 1-0 Nobili Pescara deve un po' recriminare perché ha giocato bene la prima parte del primo tempo colpendo anche un palo ma non ha concretizzato la superiorità territoriale ma attenzione Silva Casaroli deviato Petrovic blocca la partita si è aperta dopo un primi 25 minuti abbastanza inconcludenti da parte di entrambe le squadre sicuramente il palo di Casaroli ha dato il via alle danze e le squadre si sono un po' aperte alle occasioni d'attacco vediamo in questa ripresa se il Pescara soprattutto riuscirà a portarsi al pareggio Silva per Nobili in direzione di D'Alessandro Nobili per D'Alessandro il tiro da fuori Petrovic che mette in calcio d'angolo grande combinazione Nobili D'Alessandro destro secco che costringe Petrovic a un bel intervento e a mettere in calcio d'angolo fiato sospeso dello stadio perché la palla sembrava depositarsi ugualmente in rete così non è Nobili per Salvatori va Salvatori in area di rigore per Silva il tiro respinto ed è ancora calcio d'angolo il Pescara comunque gioca bene ma per il momento non riesce a concludere alla battuta Nobili cross in mezzo il colpo di testa e la palla in rete di Silva il pareggio del Pescara meritato dobbiamo dire perché dopo il vantaggio del Rimini sicuramente questa ripresa del Pescara ha fatto tanto ed è pervenuto al pareggio su questa azione da calcio d'angolo ottima azione tra l'altro bellissima adesso andiamo a vederla soprattutto conclusa sul primo palo dove lì veramente tra difensore e portiere nessuno dei due è riuscito a respingerla guardate Silva ottimo stacco e alla fine Sartori e Petrovic si ostacolano un po' l'un l'altro e la palla finisce in fondo alla rete il pareggio dunque del Pescara Rimini 1 Pescara 1 tutto da rifare per entrambe le squadre vedremo se Rimini riuscirà a tornare in vantaggio Baldoni lancio lungo niente da fare il Pescara recupera palla Mazzarri di Michele ancora Mazzarri sicuramente il Pescara sta salendo di ritmo Bilardi però intercetta proprio Mazzarri Bilardi Negrisolo attenzione c'è Donatelli largo a sinistra ha servito squadre un po' lunghe il cross in mezzo il colpo di testa ha cercato un po' improbabile il cross in mezzo attenzione Traini è lì da solo difesa del Pescara un po' in affanno mette ordine Mazzarri Nobili per Silva va via Silva Sartori alla fine lo raddoppiano in due adesso è Donatelli a prendere palla per Saltutti Negrisolo ancora Saltutti attenzione in area di rigore Saltutti prova a servire Traini anziché tirare è scelta sbagliatissima perché la difesa del Pescara con Marchi soprattutto riesce a recuperare Gentilini di Michele per Mazzarri il lancio in direzione di Silva partita concitata adesso molto bella Baldoni per Bilardi ancora Merli parlanti in direzione di Negrisolo lancio in direzione di Traini Largo su Salvatori sicuramente le squadre non si stanno risparmiando la vogliono vincere non si accontentano del pareggio anche perché servirebbe a ben poco sapendo già quali sono gli altri risultati ma ve li diremo dopo in studio Silva lancio attenzione per Di Michele è tutto solo deve uscire Merli a contrastarlo il cross di Di Michele troppo pretenzioso libera il Rimini Donatelli attenzione squadre lunghissime questo favorisce i contropiedi ed eccolo qui Bilardi arriva Sartori c'è Traini a destra che ha chiamato palla servito ma troppo lunga e alla fine palla che sfila sul fondo Nobili in direzione di Marchi lancio per Silva Traini attenzione Saltutti si era inserito alle spalle di tutti ma Frison portiere del Pescara ha intuito l'intenzione del numero 9 Silva siamo agli ultimi scampoli di partita ed esattamente come per Catania Palermo che avevamo detto in telecronaca siamo nella cosiddetta zona in cui basta un episodio per decidere la partita Negrisolo in direzione di Saltutti Donatelli fermato da Salvatori Casaroli ancora per Salvatori da Alessandro Casaroli fermato a sua volta Saltutti Donatelli ne hanno ancora gli attaccanti da Rimini Saltutti si lancia sul filo è fuori gioco il cross in mezzo Traini lì in area di rigore Traini fuori di un soffio veramente occasione sprecata da Rimini che era un'ottima occasione guardate lì Traini come difende palla e vince il rimpallo soprattutto Merli se lo fa sfuggire il tiro però dà un brivido a Frison ma la palla finisce fuori di un soffio c'è una sostituzione entra Bergamaschi per Bilardi non cambia nulla formazione sempre offensiva per Rimini Gentilini Nobili fermato da Negrisolo che ha fatto un'ottima partita al numero 8 Traini non tiene palla in campo probabilmente la partita è sui binari dell'1-1 anche se le squadre stanno tentando il tutto per tutto per risolverla a loro favore Traini che ha forse sulla coscienza l'occasione sbagliata Negrisolo per Donatelli che si accentra difende palla Donatelli per Saltutti in area di rigore Saltutti e all'ultimo secondo il Rimini passa in vantaggio e giustamente Saltutti corre verso la panchina a festeggiare con tutti i compagni una partita che ormai sembrava destinata sull'1-1 Saltutti trova veramente il tiro sotto la traversa imparabile per Frison guardate Donatelli che serve Saltutti che si libera di Merli e spara sotto la traversa Frison non si capacita di come sia riuscito a trovare quella traiettoria la spara sotto la traversa il tiro cosiddetto alla disperata Frison non ci arriva palla in rete ed è il vantaggio del Rimini praticamente nei minuti di recupero all'ultimo secondo e infatti non c'è più tempo l'arbitro manda tutti negli spogliatoi la spunta al Rimini all'ultimo secondo per 2-1 sul Pescara e ora torniamo in studio e leggiamo tutti i risultati Rieccoci in studio per commentare i risultati due partite veramente decise negli ultimi minuti e sono state due belle partite ma non di meno le altre infatti mi pento di non avervi trasmesso Brescia-Bari perché è stata veramente divertentissima Brescia-Bari che è finita 2-2 leggiamo i risultati a Catania il Palermo batte il Catania per 1-0 Cavese-Cremonese 1-0 Foggia-Perugia 1-1 Lazio-Verona 3-0 Pisa-Lecce 2-1 Rimini Pescara 2-1 San Benetese è già un'altra partita veramente interessante 4-1 Sampdoria Pistoriese 2-0 Varese Spal 1-0 permettetemi di rispondere ad una domanda che mi è stata fatta ma perché non trasmetti gli highlights per esigenze di tempo e soprattutto per andare un po' stretti in questo periodo appunto di speciali dedicati alla Serie B non trasmetteremo gli highlights delle partite andiamo a vedere quelle che sono andiamo a vedere quella che è invece scusate l'attuale classifica con Palermo che balza in avanti a 22 punti con la vittoria Catania seguono Sampdoria e Varese 21 punti Verona Pisa Brescia 19 punti San Benedettese Cavese Spal Catania 17 Lazio Perugia 16 Pescara Cremonese Rimini 14 Reggiana 13 Bari 12 Pistoiese Lecce 11 punti Foggia 10 punti la classifica inizia un po' ad allungarsi andiamo a vedere quello che sarà il programma della 17esima giornata e la 17esima giornata prevede due scontri veramente interessanti anzi ce ne sono tanti di interessanti ma andiamo a vederli insieme Brescia Rimini Lecce San Benedettese sarà questa una delle partite che trasmetteremo primo perché Lecce è nella zona calda in fondo alla classifica secondo perché la San Benedettese è sorprendentemente a 5 punti dalla testa della classifica ma soprattutto veramente a ridosso della zona promozione quindi sicuramente una partita che andremo a trasmettere sarà proprio questa Bari Varese Catania Verona Cremonese Lazio Perugia Sampdoria Pescara Foggia Pistoiese Cavese e naturalmente andremo a seguire la capolista Palermo a Reggio Emilia quindi Rezzana Palermo sarà la nostra partita due partite consecutive che interessano il Palermo ma giustamente seguiremo una delle squadre delle zone di testa della classifica e la coda della classifica nonché ogni tanto coinvolgeremo come in questo caso la San Benedettese squadra al settimo posto ma che sta sorprendendo un po' tutti anche il sottoscritto perché si trova in una posizione d'alta classifica io non mi resta che salutarvi rimandarvi all'appuntamento con la diciassettesima giornata ci rivedremo naturalmente andrescorreremo via via con queste giornate molto intense e naturalmente vi aspetto tantissimi grazie ancora a tutti un abbraccio e ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti